Bando ai campanilismi, Pescara e Chieti si uniscono assieme ad altre città italiane per scongiurare la sospensione votata dal Senato del bando per la riqualificazione delle periferie indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri due anni fa. Questa mattina a Pescara, nel corso di una conferenza stampa, i due sindaci di Pescara e Chieti, Marco Alessandrini e Umberto Di Primio, hanno illustrato le iniziative decise assieme a Lanci. Le chiacchiere purtroppo stanno a zero, i fondi per le periferie tanto agognati per i quali i comuni hanno fatto i compiti a casa, arrivati all'ultimo miglio, sono stati congelati. Per questo è necessaria una mobilitazione di tutti i comuni italiani. Io stesso, insieme a tanti altri colleghi sindaci, nel dicembre dello scorso anno ho sottoscritto un contratto a Palazzo Chigi con il Presidente del Consiglio. Questo contratto è stato registrato dalla Corte dei Conti, che è il massimo organismo contabile dello Stato. Ecco, si parla tanto di recuperare quella trama di fiducia che sembra interrotta con i cittadini. Beh, se lo Stato è il primo che torna indietro sui passi, evidentemente c'è qualche problema. Domani una delegazione del Lanci sarà a Roma per essere ascoltata in Commissione Bilancio alla Camera, perché, dicono i sindaci, c'è la necessità di far tornare indietro il governo su un provvedimento sbagliato e su un emendamento che è un vero e proprio scippo ai fondi necessari alle grandi città, soprattutto per combattere degrado e insicurezza dei cittadini. Lavori che servono per rendere le città migliori, per migliorare la qualità della vita dei cittadini, per migliorare le infrastrutture delle nostre città. Quindi è una battaglia che stiamo facendo a livello nazionale. Io domani sarò in audizione alla Camera insieme ad altri sindaci per dire quello che perde l'Italia, ovvero questo provvedimento dovesse essere confermato in sede di Camera dei Deputati. È un provvedimento, tra l'altro, che presenta profili di illegittimità costituzionale, è un provvedimento che presenta profili di illegittimità anche sotto il profilo del diritto civilistico, perché c'è una convenzione tra noi e lo Stato, una convenzione che abbiamo sottoscritto nel dicembre del 2017 e che noi abbiamo già onorato facendo i lavori che ci era richiesto di fare.